ciao sono marco del negozio passport prima di tutto vi invito a iscrivervi al nostro canale youtube e a seguirci sui nostri social instagram e facebook oggi voglio presentarti una scarpa che è stata completamente e totalmente rinnovata sto parlando di adidas ultra boost 21 il rinnovamento di questa calzatura neutra ha coinvolto tutti i settori della calzatura a partire dal battistrada l'inter suola e anche la tomaia ma andiamo con ordine e partiamo dalla tomaia la prima cosa che salta subito all'occhio è che la tomaia è completamente realizzata senza cuciture e anzi il materiale di costruzione che adidas chiama prime blu è un materiale di riciclo per oltre il 75% il tessuto è completamente elasticizzato e avvolge perfettamente il piede per dare contenimento adidas ha inserito questa parte mediale in materiale plastico che serve ad ottimizzare la lacciatura e a contenere bene il piede soprattutto nella parte mediale cioè del mesopiede per quanto riguarda il tallone invece notiamo l'utilizzo di questa aletta sporgente che serve ad ottimizzare la calzata per il tendine d'achille è una conchiglia posteriore molto morbida che però è stata strutturata con l'utilizzo di due ali in plastica che servono a contenere bene il tallone e quindi a dare un po di stabilità la linguetta è completamente integrata nella tomaia è molto elasticizzata ed è molto sottile quando si calza la scarpa sembra davvero di indossare un vero e proprio calzino la forma sull'avampiede lascia il giusto spazio per le dita dei piedi non è uno spazio esagerato si sente che la tomaia tocca il piede in tutte le sue parti ma questo però non arreca almeno a mio avviso alcun fastidio andiamo ora a parlare dell'intersuola la prima cosa che salta all'occhio è che stiamo parlando di una suola alta importante la definirei quasi maestosa stiamo parlando infatti di un'altezza sul tallone di 30,5 centimetri e sull'avampiede di 20,5 centimetri per un drop complessivo di 10 millimetri il peso di questa calzatura sul 42 2 terzi è di 340 grammi l'intersuola è completamente realizzata in materiale boost quindi una mescola di pugliuretano che è il materiale più ammortizzato e più morbido che utilizza adidas che serve a garantire il massimo della protezione in abbinamento ad un'ottima generatività e ad un'ottima elasticità andiamo ora a vedere il battistrada di adidas ultra boost 21 dove i tecnici adidas a mio avviso hanno veramente dato sfogo a tutte le loro idee ed infatti sono davvero tante le innovazioni tecnologiche che qui troviamo applicate partendo dalla parte talonare notiamo un'estrema rotondità della parte appunto talonare che serve a dare un primo impatto molto soffice e molto progressivo l'altra cosa che si nota è l'inserimento del nuovo sistema torsion che qui è fatto a forma di forchetta o ad x così così possiamo dire che serve a raccordare perfettamente la parte di appoggio talonare con la parte di spinta sull'avampiede troviamo ancora l'applicazione di questa piastra sull'avampiede che vada a raccordarsi con l'inserimento del torsion a x in questo caso e che serve a dare un'ottima elasticità e un'ottima fase di spinta dove si riesce a sfruttare al massimo quella che è appunto la spinta e l'attività data dal materiale ultra boost anche in questo modello ultra boost 21 troviamo la mescola di gomma continental che è per le calzature un sinonimo di durata e robustezza fin qui ci siamo soffermati a spiegare le caratteristiche tecniche del prodotto ma vediamo di fare qualche approfondimento vediamo di capire per chi è consigliata questa scarpa e quale può essere il suo miglior utilizzo partirei se me lo concedete con alcune considerazioni personali questa scarpa personalmente mi piace molto apprezzo la calzata quando si entra con il piede si sente perfettamente un comfort superiore apprezzo la morbidezza in fase di primo impatto tallonare e personalmente apprezzo anche il differenziale il drop di 10 mm che in fase di corsa si percepisce perché senti il tallone molto sollevato sul tallone appunto e poi quando la rullata va verso l'avampiede percepisci questo differenziale di 10 mm che ti accompagna dolcemente verso la fase di avampiede e di spinta allo stesso modo mi permetto di dire che questa è una calzatura per molti ma non per tutti questo cosa significa significa che è una calzatura che va sicuramente bene per le corse quotidiane di allenamento di fondo magari per podisti di peso medio non direi per podisti di peso medio e alto perché appunto come è costruita la scarpa a mio avviso privilegia di più i ritmi intermedi non solo i ritmi molto lenti o molto blandi perché se da una parte si può apprezzare quello che è l'appoggio tallonare molto morbido e allo stesso tempo però stabile d'altro canto l'avampiede richiede una fase di spinta importante e quindi superiore rispetto a chi invece corre oltre a 5 km o anche un po di più per i podisti più veloci che quindi vogliono scendere abbondantemente sotto i 5 km la vedo una scarpa che va provata e capita perché se da una parte abbiamo il grande ammortizzamento d'altro canto abbiamo l'avampiede che spinge molto bene però qui abbiamo il peso che non aiuta a portare la scarpa a ritmi molto sostenuti perché come dicevamo prima 340 grammi di peso si sentono fondamentalmente diciamo che è una calzatura per gli allenamenti secondo me è una calzatura che può essere apprezzata da chi ha una buona biomeccanica di corsa e che quindi sa utilizzare bene sia la parte talonare che la parte dell'avampiede un ultimo appunto vorrei farlo invece per chi cammina perché questa calzatura può essere molto indicata e anzi consigliata per chi va a passeggiare è una calzatura molto ammortizzata di conseguenza si apprezzerà sicuramente il comfort di calzata sicuramente il morbido la stabilità che si ha in fase di primo appoggio e il fatto di essere accompagnati in maniera progressiva dal tallone verso l'avampiede come fondo su cui correre o camminare direi che è una calzatura indicata per l'asfalto fondamentalmente abbiamo un battistrada che non presenta tasselli molto importanti di conseguenza il suo campo naturale di corsa o di camminata appunto è sicuramente l'asfalto o le strade bianche detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto e possa tornarvi utile nelle vostre prossime scelte come sempre vi aspettiamo nei nostri negozi a busche o signoressa e se abitate lontano perché no anche online sul nostro sito www.passport.it ciao